Che ci siano delle ossa umane al cimitero è tutt'altro che strano? Altra cosa è se i resti appaiono quando e dove non dovrebbero stare murati in una specie di cunicolo, anzi due, dentro cassette di zinco e buste di plastica. A scoprire tutto nel vecchio cimitero dei Colli erano stati gli operai dell'impresa impegnata nelle opere di consolidamento. Poi Ambiente S.P.A. che gestisce i servizi cimiteriali e il sindaco di Pescara Carlo Masci hanno avvisato la ASL e la Procura della Repubblica. L'ipotesi è che si tratti di persone decedute 30 o 40 anni fa, i cui resti potrebbero essere stati rimossi durante i lavori nelle aree delle inumazioni. Il problema vero però è l'allarme rosso lanciato al Tg8 dal presidente di Ambiente S.P.A. Massimo Papa. Solo alcune cassette riportano i nomi, peraltro senza data, e quindi in totale assenza del sistema di informatizzazione occorrerebbe spulciare registri decennali o affidarsi alla memoria dei custodi per risalire ad eventuali parenti dei defunti. Su alcune ci sono dei nominativi sulle cassette di zinco, per altre il nominativo c'è ma col tempo siano passati forse 40 anni, il nome non si riesce nemmeno a leggere in maniera esaustiva. Dalle foto sembra che nel secondo locale ci siano più bustoni di plastica che cassette di zinco. Sì, ci siamo fermati aspettando il da farsi, perché ovviamente si tratta di entrare in locali in cui ci sono delle buste di plastica contenenti dei resti umani. Uno pensa che nel cimitero siano sistemati e custoditi, dopodiché secondo noi è un'anomalia grossa, insomma che ci sia una sorta di ossario, tra virgolette, decentrato in dei locali che non sono adibiti né a questo e non si capisce come siano stati riempiti di parecchie salme, per cui alla fine parliamo di 250 circa nel primo locale. Io suppongo che ce ne siano altre tante nel secondo locale, quindi no. Il tema dei cimitei dove mettiamo i nostri cari sepolti, allora, primo punto, non ci sono gli spazi, ed è un problema grosso. Il secondo problema è l'informatizzazione sia della disposizione dei vari siti dove si seppelliscono i nostri cari, sia dell'identificazione fra il sito e le persone che sono interessate a tenere in buono stato, a pagare ovviamente le concessioni che vanno pagate, eccetera, eccetera, per ciascuno dei siti dove vanno seppelliti i nostri cari. Quindi noi non sappiamo di chi sono questi, sia Cappelle che Loculi, che non sappiamo o sappiamo chi c'è dentro solo perché è stato riportato su una scrittura, diciamo, cartacea, e quindi abbiamo difficoltà su tutto il fronte. Grazie a tutti.